eccoci siamo in live partita la nostra diretta buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento per chi non mi conoscesse mi presento mi chiamo antonio anile e sono un agente immobiliare che da quasi 25 anni opera nel mondo dell'immobiliare settore residenziale nei miei primi vent'anni io sono cresciuto professionalmente in provincia di milano e i miei primi vent'anni di attività li ho svolti appunto operando nell'interna milanese e poi nel 2015 spinto da dal sogno mio di mia moglie di trasferirci al mare abbiamo deciso di stabilizzarci qui di trasferirci al mare dove attualmente viviamo e lavoriamo ovvero a san vincenzo sulla costa degli etruschi in questa diretta affronteremo temi legati al mondo del mutuo per l'acquisto di un immobile residenziale e in particolare parleremo di come si stanno comportando le banche per l'erogazione dei mutui ai tempi del coronavirus cosa cambia rispetto al periodo preemergenza ne parleremo fra poco con il nostro ospite parleremo della possibilità di surrogare il mutuo e spiegheremo ovviamente il significato di surrogare il mutuo se ho già sottoscritto una proposta d'acquisto ed ero in attesa di approvazione del mutuo che cosa succede ora è ovvio che è una preoccupazione che in questo momento tante persone hanno affronteremo il tema della sospensione del mutuo prima casa spiegando quali sono le modalità e la procedura l'ospite della diretta e dottor fabio panicucci di auxilia finance consulente del credito e partner di fiaip la federazione italiana agenti immobiliari professionali ma prima di introdurlo via con la sigla ben trovati questa nostra diretta come come detto vedo già collegato fabio ciao fabio a tutti buongiorno a tutti salve ciao come stai tutto bene fabio come come sta vivendo questa questa quarantena una domanda banale ecco no no ma in realtà penso un po come tutti ho trasferito praticamente il mio ufficio a casa un ufficio di fortuna stiamo cercando di lavorare smart working per gestire il lavoro corrente con tutte le difficoltà che poi bene immaginare insomma ecco e cerchiamo di tenere duro e speriamo che questa che tutto questo possa finire presto insomma bene intanto che attendiamo prevedo già comunque delle persone da casa che si stanno collegando magari ecco parlaci un attimino di te di cosa ti occupi dove operi tu ti trovi a livorno ecco il tuo ufficio a livorno giusto il mio ufficio è a livorno io mi occupo di consulenza di credito quindi sono un soggetto che attraverso una serie di convenzioni bancarie riesce per così dire a migliorare l'incontro domanda offerta tra il cliente che vuole comprare casa e ha bisogno del mutuo da una parte e la banca che ha recalcato dall'altra lavoro con una azienda molto strutturata che è l'auxilia finance che tra l'altro è espressione come dicevi prima della federazione degli agenti immobiliari professionali la fiaip è un'azienda abbastanza recente nel 2010 nasce con il decreto che ha riformato il settore e ha introdotto la mediazione chieditizia e come dire giusto così per spiegare ai ascoltatori che sono in diretta di cosa si tratta esattamente beh insomma è un'attività che introduce nel mercato un soggetto terzo c'è una figura che non è legata direttamente a una banca ma avendo molte banche in convenzione può proporre al proprio cliente l'abito migliore quindi sostanzialmente individuare o le condizioni più interessanti i tassi migliori oppure quel prodotto che il cliente sta cercando ma che nella giungla delle banche non è facile individuare ecco il consulente aiuta agevola questo processo seguite le fasi in forma continuativamente evidente e soprattutto il consulente di credito è una figura presente è una figura cioè che non ha limiti di orario ci possiamo incontrare comodamente la sera su tardi il sabato quindi cercare di aiutare il cliente ad avere un facile accesso al credito è il compito primario di un consulente di credito ecco esattamente diciamo che tu setacci il mercato contatti tanti tante banche e ovviamente in base alla tipologia dell'acquirente che ti trovi di fronte confezione il prodotto migliore su misura per quel tipo di cliente corretto correttissimo e ci tengo anche a sottolineare che la mia attività è un'attività piuttosto strutturata che cosa vuol dire questo vuol dire che esiste un albo un albo degli agenti dei mediatori che di tizi che è gestito dall'oam l'oam per chi non lo sapesse è un organismo della banca d'italia quindi stiamo parlando di un'attività ad un certo livello ovviamente un'attività che per essere svolta richiede un corso di formazione specifico il superamento di un esame oltre che anno dopo anno l'obbligo di formazione continuativa per mantenere i requisiti professionisti quindi stiamo parlando di un'attività molto qualificata bene in effetti se il tema del ad esempio della possibilità da parte del dell'acquirente di non dover sottostare a degli orari di sportello è un problema già di per sé interessante se penso che devo acquistare casa devo chiedere un permesso per andare a parlare con col direttore di filiale insomma diventa anche insomma tempi come quelli odierni dove è ancora più difficile uscire a fare un incontro vis a vis davvero può essere molto molto complicato per una famiglia che magari ha impegni lavorativi bambini le difficoltà della vita il consulente non può neanche tipo di problemi è un libero professionista incontra il cliente in modi e in orari graditi al cliente stesso quindi veramente grande efficienza e grande presenza queste sono credo le caratteristiche fondamentali della consulenza chieditizia oltre ovviamente alla professionalità alla conoscenza del mercato alla conoscenza delle politiche di credito senza le quali ovviamente chi non avrebbe come dire ragione di esistere in effetti poi una una considerazione importante che sono match da da far capire i nostri amici da casa è che nel momento in cui tu acquisti casa e vuoi appunto richiedere un mutuo e tu stipuli devi sapere che stipuli un contratto vero e proprio con il tuo istituto bancario che è la tua tra virgolette come in qualsiasi contratto ci sono due parti contrapposte che è la tua controparte e a quel punto insomma avere una persona che ti segue passo passo dopo passo in questo insomma questa cosa veramente importante quindi un passo importante dalla nostra vita considerato che poi se parliamo di mutui a breve termine parliamo di dieci anni minimo fino ad arrivare a 30 anni è importante negoziare e spuntare le condizioni migliori di mercato quindi questo è il tuo compito esatto è proprio questo e ci tengo a sottolineare che nel come dire nel rispetto del lavoro delle banche tutte le banche lavorano con impegno lavorano con dedizione ma il problema è che come dire hanno politiche di credito e ovviamente condizioni differenti ora una precisazione molti molti clienti tendono ad associare l'idea che il tasso al tasso migliore corrisponda la banca migliore certo il tasso migliore è appetibile tutti quanti vorremmo avere le condizioni più vantaggiose ciò però che dobbiamo tenere presente è che al tasso migliore spesso non corrispondono le politiche di credito più ampie cioè per avere le condizioni migliori bisogna avere profili di credito quindi sostanzialmente dei redditi e diciamo dei profili in senso generale molto 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 alti quindi a volte si tratta di individuare la giusta via di mezzo cioè quell'equilibrio tra condizioni che il cliente desidera sempre maggiori sempre come dire migliori e come dire profilo creditizio dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le cose ecco il consulente fa proprio questa cosa questa trattativa che dicevete prima cerca cioè di individuare nell'interesse del cliente le migliori condizioni viste le potenzialità che il cliente può esprimere questo è un punto molto importante che quindi cerca di rendere più efficiente il mercato di non disperdere possibilità opportunità ma di fare in modo che le persone possano avere la loro casa e che la banca con le sue politiche di credito possa concludere l'affare bene entriamo nel vivo della della nostra diretta perché ovviamente stiamo in questo momento vivendo un momento particolare un momento di emergenza ecco volevo chiederti poi la domanda che in questo momento secondo me in tanti vorrebbero farti come si stanno comportando le banche in questo momento di emergenza a proposito di sospensione del mutuo piuttosto che surga dei mutui anche i protocolli che adottano anche per incamerare la firma di un cliente poi ecco certo questi 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 temi che secondo me veramente sono molto molto interessanti per tante persone perché comunque tanti clienti anche in questi giorni mi chiamano e ovviamente insomma ti chiedono Antonio come come sta andando e come saranno i prezzi come saranno l'andamento dei tassi cosa devo fare per insomma non sbagliare in questo momento ecco poi la paura di sbagliare tanta ma come si stanno comportando qual è la posizione delle banche in questo momento allora grazie per la domanda Antonio perché in effetti sono questioni oggi di vitale importanza hai toccato molti aspetti sospensione surga operatività quindi la risposta a questa domanda richiede un attimo un discorso articolato cercheremo di come dire andare con ordine intanto una prima questione fondamentale che vorrei un'informazione che vorrei trasmettere ai nostri ascoltatori la crisi del covid non ha bloccato bloccato la operatività delle banche le banche ancora oggi nonostante le difficoltà sono nelle condizioni di erogare il credito questo è il primo elemento decisivo chi vuole comprare casa attraverso un mutuo oggi lo può fare ancora chiaro è chiaro lo farà con come dire una soglia di attenzione da parte della banca maggiore ma questo non vuol dire che l'accesso al credito sia precluso semplicemente che la banca farà una valutazione più come dire mirata sul cliente dovrà valutare complessivamente il suo profilo valutare quindi se magari un cliente ha avuto che ne so una cassa integrazione vedere se magari la presenza di un coniuci con un lavoro che invece continua a durare piuttosto che di un garante non possono andare a come dire a rafforzare il quadro e comunque a garantire l'erogazione del credito quindi non non diamoci per vinti quando magari la propria azienda ha come dire ha dovuto prendere delle misure per rispondere a questa situazione del covid ma anzi ripeto le banche valuteranno ogni cliente caso per caso quindi dobbiamo lavorare in concreto nello specifico per poter arrivare a un risultato detto questo è ovvio che una delle prime conseguenze che ricadranno sull'operatività bancaria è il problema della sospensione del mutuo che oggi è veramente l'elemento che la fa da padrone che cos'è la sospensione del mutuo è chiaro che infatti se ti chiedo se poi appunto spiegare poi anche quello che la procedura allora se c'è un modulo ecco poi magari faccio una premessa è una materia che come avete visto in tanti altri fronti che riguardano la crisi del coronavirus è una materia in divenire quindi non c'è ancora una posizione definitiva in sostanza grazie al decreto cura italia è possibile per coloro che hanno sottoscritto un mutuo sulla prima casa attenzione sulla prima casa la possibilità di poter sospendere la rata del mutuo c'è un fondo dedicato e c'è una modulistica che va si può ricavare andando direttamente al sito del ministero dell'economia e finanza ma in generale è molto facile poter avere accesso a questa documentazione anche semplicemente andando sul sito della propria banca il modulo va compilato con i dati degli intestatari e indicando le circostanze in ragione delle quali si va a chiedere la sospensione che possono essere di due tipi di situazioni per i dipendenti la riduzione dell'oraio di lavoro mentre per i lavoratori autonomi la riduzione del fatturato in relazione al fatturato dell'anno precedente se si verificano le circostanze il ministero dell'economia e finanza dall'ok garantisce quindi la banca con la quale avete il rapporto di mutuo e la banca provvede a sospendere la rata di mutuo una precisazione la durata massima della sospensione è prevista nell'ordine dei 18 mesi e soltanto comunque per capitali residui non superiori a 250 mila euro è uno strumento molto importante è uno strumento che veramente dà una mano a chi in questo momento è esposto con le rate mensili ma non ha più le entrate del proprio lavoro tuttavia e questo è bene precisarlo la sospensione potrebbe non essere in alcuni casi la soluzione migliore per il cliente per quale motivo perché comunque la sospensione implica una permanenza dell'informazione in banca dati infatti volevo chiederti proprio questa cosa perché mi ricollego proprio appunto a questa cosa perché proprio in questi giorni mi ha chiamato un cliente chiedendomi appunto se poteva poi in futuro avere delle possibili conseguenze ecco diciamo che probabilmente la sospensione va fatta nel momento in cui probabilmente c'è una situazione di sofferenza oggettiva da parte della famiglia correggimi se sbaglio comunque questo in una fase successiva nel momento in cui richiedo in futuro un altro finanziamento o un altro mutuo è ovvio che nel mio storico si rileva che in questo periodo ho sospeso un mutuo in corso ed è comunque voglio dire un qualcosa che rimane giusto? rimane giustamente ora è vero da una parte che questa sospensione è dovuta a cause di forza maggiori ma resta comunque il fatto che l'informazione potrebbe potrebbe rendere un po più complicato l'accesso ad un eventuale surroga futura piuttosto che ad una rinegoziazione quindi io credo che sia una scelta importante per le famiglie le famiglie che davvero hanno la necessità la necessità oggi immediata urgente di gestire il problema della rata beh c'è poco da fare la sospensione va chiesta perché è l'unico strumento per poter gestire un problema di questo tipo ma se la famiglia comunque riesce a portare avanti la rata del mutuo perché magari ha un reddito che non viene scalfito eccessivamente da tutta questa crisi allora potrebbe valere la pena di resistere e anzi addirittura di valutare un'alternativa cioè una surroga esatto una surroga di mutuo e quindi questa è la questione di che cosa sia una surroga molti lo sapranno ma magari alcuni no e quindi è bene spendere due parole di chiarimento che cos'è la surroga la surroga è un mutuo che però ha questa caratteristica quella cioè di trasferire l'operazione di mutuo preesistente su un altro istituto di credito in una nuova banca quindi io che sono già titolare di un mutuo con la banca A un domani decido di passare ad una banca B e per quale motivo lo dovrei fare lo faccio perché mi propongono delle condizioni migliori quindi mi trasferisco sulla banca B che mi concederà delle condizioni migliori e lo farà attenzione a costi praticamente azzerati che cosa vuol dire costi praticamente azzerati l'istruttoria la perizia persino le tasse tutti questi costi vengono automaticamente assorbiti dalla banca che ci accoglie addirittura le spese notarie quindi stiamo parlando di un abbattimento di costi molto importante che può creare un'efficienza nel bilancio di una famiglia altissima quindi la surroga è davvero uno strumento potente e oggi con i tassi così bassi potrebbe essere una risposta altrettanto valida rispetto alla sospensione per reagire allo stato di crisi quindi so surrogo il mio mutuo abbasso la rata perché so che comunque posso resistere ma insomma posso con la surroga ottenere un'efficienza maggiore per il mio bilancio familiare ecco quindi valutate bene valutate bene questa possibilità ecco in effetti ti faccio una domanda relativa l'impossibilità oggi di uscire da casa sospensione mutuo surroga quindi rinegoziare le proprie condizioni in che modo ecco posso firmare dei documenti posso firmare dei moduli ecco se vuoi parlarci della firma digitale che ovviamente in questo momento è un piacere davvero mai la tecnologia come in tempi come quelli odierni ci viene in aiuto ora che cos'è la firma digitale non è altro che la possibilità di sottoscrivere la documentazione dell'istruttore di mutuo a distanza e quindi capite bene che è uno strumento comodissimo non è necessario quindi l'incontro vis-à-vis con il consulente ma sarà sufficiente un appuntamento online in webcam come stiamo facendo adesso in orario che al cliente è comodo la procedura prevede l'invio di un sms al cellulare del cliente di un codice che solo il cliente stesso può vedere il cliente che cosa farà comunicherà il codice che solo lui può leggere al consulente che sta caricando la pratica nel sistema il consulente indicando le cifre trasmesse potrà quindi perfezionare il documento di antiriciclaggio di privacy e il contratto di mutuo e in questo modo con un semplice passaggio di documentazione in pdf cioè il consulente rimanderà il contratto firmato in digitale in formato pdf e il cliente manderà al consulente la documentazione anagrafica reddituale necessaria per istruire il mutuo sempre per posta elettronica e sempre in formato pdf e il consulente sarà così in grado di operare sin da subito pensate il vantaggio quando magari con una banca potrebbe come si diceva prima potrebbero esserci bisogno anche di due settimane solo per fissare un certo quindi veramente un'efficienza nei tempi maggiore con la firma digitale che è uno strumento eccezionale che sicuramente verrà ampiamente utilizzato nei prossimi mesi a meno fino a quando non finirà questa questa crisi del covid volevo farti una domanda fabio oggi un possibile acquirente che ha sottoscritto una proposta d'acquisto quindi si è già impegnato formalmente con un proprietario quindi ed è in attesa ed era in attesa aveva evaso la la sua domanda di mutuo nel periodo pre emergenza ecco in questo senso poi puoi darci qualche delucidazione ecco cosa avverrà quindi la pratica che è stata elaborata nel periodo pre emergenza viene congelata e quindi il l'acquirente beneficia sempre delle stesse condizioni che aveva stipulato prestipulato prima dell'emergenza oppure insomma lì questa è una situazione molto delicata quindi considerando gli interessi economici in gioco la risposta a questa domanda in realtà come dire sono molte risposte in che senso ogni banca reagirà in modo di reagisce in modo diverso ci sono alcune banche che una volta data la delibera procedono come se nulla fosse e ce ne sono altre che invece vanno a indagare anche una volta che il mutuo si è deliberato vanno a indagare su come l'azienda del cliente si è comportata rispetto alla crisi del covid quindi se magari ha ridotto l'orario del lavoro piuttosto che fatto ricorso alla cassa integrazione che è fondamentale richiedere come si diceva prima caso per caso situazione per situazione una valutazione di approfondimento potrebbe magari saltar fuori l'esigenza di rafforzare il quadro dell'operazione con una garanzia però sempre dentro un dialogo costruttivo quindi di nuovo non preoccupatevi perché una situazione di questo tipo possa danneggiare sicuramente la vostra delibera acquisita si tratta di mettersi seduti al tavolo con la banca e ragionare qualora ce ne fosse bisogno e la banca lo richiedesse su come rafforzare il profilo creditizio quindi certamente attenzione certamente come dire possibilità di dialogare con la banca al fine di rafforzare il quadro della situazione c'è anche da dire un'altra cosa una delibera di solito dura sei mesi quindi potrebbe anche essere che il tempo passa la situazione torna alla normalità e quindi la banca mantenendo ancora i requisiti di tempo della delibera attivi possa procedere in un secondo momento ecco vorrei trasmettere un messaggio per rassicurare le persone i clienti che hanno una un'operazione già in essere di non come dire di non allarmarsi eccessivamente ci sono strumenti e modi per poter risolvere anche questa felicità benissimo a proposito di questo fabio volevo in qualche modo affrontare il tema delle verifiche che effettua una banca quando si richiede un mutuo proprio riallacciandosi a questo argomento della verifica aziendale ok quali altri sono i controlli le verifiche che vengono fatte su sostanzialmente sono di tre tipi il primo lo abbiamo un po citato alla lontana prima la banca dati cioè l'accesso alle informazioni di credito che un cliente ha in una banca dati che si chiama crif ce ne sono tante in realtà crif è una delle più importanti quindi il fatto di aver tenuto rapporti creditizi con altri istituti di credito come sono stati condotti e questo è un aspetto decisivo poi il secondo aspetto ovviamente il profilo patrimoniale quindi i redditi le entrate e risparmi poi c'è un terzo profilo che spesso è tenuto in in come dire in sordina ma sta diventando sempre più importante l'aspetto immobiliare le banche effettueranno sempre delle perizie sull'immobile perché l'operazione è contro garantita no da una valore immobiliare quindi è fondamentale arrivare all'appuntamento della richiesta di mutuo con un oggetto che sia conforme urbanisticamente e catastalmente anzi colgo l'occasione che mi stai dando per consigliare ai clienti che ci stanno ascoltando la importanza di avvalenza di un professionista immobiliare di un agente che effettuando a monte delle verifiche sull'immobile e dando quindi ampia garanzia al cliente che ciò che sta comprando è un bene certificato certificato urbanisticamente catastalmente da una relazione tecnica che viene redatta da un da un soggetto qualificato un geometra piuttosto che un ingegnere e quindi che come dire l'immobile è sano questo ha un impatto enorme nell'operazione di mutuo perché vuol dire che quando la perizia vallisce anche l'operazione stessa di mutuo fila meglio diciamo no quindi non c'è più anche per il consulente di credito il problema di domandarsi se l'immobile sarà o non sarà adeguato immaginatevi lo scenario mutuo deliberato tutto apposto tutti felici e poi emergono delle difficoltà dell'immobile quando i contratti sono firmati quando magari si è dopo la disdetta dell'affitto invece con un immobile certificato e chiedetemi professionista immobiliare in questo è fondamentale ecco tutto questo garantisce la possibilità di un'operazione snella e efficiente quindi ecco questi aspetti ripeto le banche dati il profilo chieditizio e l'aspetto immobiliare sono le tre colonne su cui si appoggia all'operazione di credito del mutuo ti ricordi fabio 15 giorni fa quando abbiamo fatto l'appuntamento nella nostra stanza l'ufficio virtuale col cliente quando quando sei chiesto antonio l'immobile è a posto dal punto di vista come siamo messi quando io ti ho detto c'è già la redazione tecnica di conformità ho visto proprio il tuo volto che si è proprio disteso decisivo quando arriva un cliente sì ho fatto da me il problema il venditore ma te l'ha data alla relazione tecnica magari ti rispondono ma che cos'è una relazione esatto è un altro un altro importante che va invece già risolto a monte a proposito di cripte volevo portare un diciamo un aneddoto ecco con un cliente proprio per far capire agli amici da casa insomma quanto è dettagliato il lo screening che viene fatto su su una persona in pratica c'era appunto questo potenziale acquirente voleva acquistare aveva dal punto di vista reddituale tutti i requisiti per poter sostenere quel mutuo quella quella rata di mutuo e che cosa è successo la banca ha effettuato appunto la le dovute verifiche nello storico fiscale della della persona ed è emerso che non so quanti anni prima questa persona aveva si era scritta in palestra quindi aveva sottoscritto un abbonamento annuale ovviamente le palestre in questo senso comunque quando compri il telefonino ti propongono una forma di finanziamento ok e a quel punto è dall'indagine era emerso che lui aveva pagato questa persona un paio di rate in ritardo ed è stato un problema parecchi anni successivi quando poi si è presentato nella nostra agenzia per comprare case e richiedere un mutuo e quindi vorrei far capire agli amici da casa che è un aspetto molto delicato se tu non paghi una rata del telefonino o ne salti una c'è tu sei comunque segnalato e questo si ripercuote su quello che è una futura domanda di finanziamento a un impatto decisivo a un impatto importantissimo infatti un consiglio che do a tutte le persone che ci stanno ascoltando se magari ci fosse un dubbio ma forse quella vecchia situazione di qualche anno fa ma peserà non peserà ecco non lasciate la questione senza una risposta ci sono i portali dedicati dove si può andare a fare richiesta di accesso alle informazioni l'accesso è come dire pubblico ovviamente pubblico nel senso riferito al soggetto coinvolto direttamente si fa la richiesta e la banca dati vi invia un report questo report è la descrizione puntuale di tutta la vostra vita creditizia e ci fornisce delle informazioni fondamentali per capire se davvero quella vecchia questione che sta girando per la testa ha avuto poi dei problemi oppure no quindi quando la crif è fatta in anticipo ed è in ordine questo ovviamente è per il consulente di credito un momento di sicurezza in più nel portare avanti la pratica del mutuo e ovviamente lato immobiliare una sicurezza in più per poter concludere positivamente l'affare quindi ecco se ci sono dei dubbi sempre chiedere accesso preventivo alle banche dati è un consiglio veramente molto molto importante intanto volevo dire alle persone da casa che se vogliono fare delle domande risponderemo in diretta potete tranquillamente scrivere all'interno dei dei commenti la vostra domanda e poi risponderemo nella nella parte finale della nostra diretta a queste domande visto che c'è già qualche domanda e allora volevo un attimino puntualizzare quando tu parlavi della situazione personale cioè la banca verifica la tua posizione personale la tua situazione personale a proposito di non so minore carico la situazione familiare immagino è un elemento che può pesare che c'è un monoreddito una persona che percepisce un solo stipendio marito e moglie un solo stipendio è ovvio che ha un incidenza se ho una famiglia una persona carico piuttosto che tre persone carico tra l'altro quasi strada di minori certo antonio questa è una delle questioni più delicate molti pensano che una volta che il famigerato rapporto rata reddito no quindi quella percentuale di indebitamento sia rispettata di solito è tra il 30 e il 35 per cento i giochi siano fatti la partita vinta ma non è sempre così perché c'è un altro parametro altrettanto importante nel rapporto rata reddito che si chiama soglia di sussistenza che cos'è la soglia di sussistenza quello che dicevi tu cioè una volta che ho pagato la rata del mutuo quello che rimane del mio reddito è sufficiente al mantenimento del nucleo familiare punto di domanda ci sono delle soglie istat che ogni banca ovviamente va a vedere e valuta nella operazione del mutuo che ci dicono ad esempio che un nucleo familiare di due persone vive con mille euro al mese quindi vuol dire che se io prendo uno stipendio di mille e duecento euro faccio per dire e chiedo una rata di 350 euro è un problema perché avendo due persone nel nucleo familiare scendo sotto la soglia di questi mille euro la banca potrebbe negarmi il credito quindi la cosa migliore da fare anche qui è preventivamente fare una valutazione anche di credito che ti può indicare con precisione la tua potenza di spesa certo magari va anche un po sforbiciata quella che è l'aspettativa iniziale me ne rendo conto ma l'obiettivo è al solito quello di essere efficienti quindi di garantire al cliente la possibilità di acquistare l'immobile quindi non sottovalutiamo le soglie di sussistenza sono un parametro molto importante tenuto in grande considerazione dalla banca in egual modo vale il discorso delle persone che sono separate o divorziate quindi sono persone che devono magari mantenere il figlio mantenere comunque passare comunque l'assegno per gli alimenti per l'ex coniuge anche questo comunque è un qualcosa da considerare ecco sono tutte cose che noi tiriamo fuori perché poi nella quotidianità fabio lo sappiamo io e te lo sappiamo ma ecco una persona insomma tante volte ecco tende a sottovalutare tutti questi aspetti che invece pesano sono come tanti piccoli centimetri che poi alla fine fanno metri e fanno propendere una decisione della banca per darti il mutuo piuttosto che non dartelo quindi a quel punto ok è questa storia questa questione che sollevavi degli alimenti piuttosto che del mantenimento è una questione sulla quale la banca alla massima attenzione verificando dal stato conto corrente che c'è un'uscita ricorrente la banca si domanderà il perché quindi dobbiamo essere in grado sin dall'inizio di avere presente questo tipo di criticità al fine di gestirla di nuovo individuando l'importo corretto alla portata della tasca del cliente quindi ecco ci tengo a chiarire questo la banca non si limita a fare una valutazione solo reddituale ma va a scavare in quello che è il profilo complessivo del cliente familiare sociologico tutti questi parametri messi insieme costruiscono l'esito finale della pratica benissimo e per persone che pagano un affitto se sono in affitto e voglio trasformare modificare la mia condizione quindi dall'affitto voglio acquistare casa ecco il fatto che una persona paghi da qualche anno un affitto come viene valutato dalla banca ovviamente se pagato regolarmente tendenzialmente è visto con favore perché un cliente che paga regolarmente un affitto è una persona che si può assumere un impegno nel tempo e rispettarlo esattamente come un impegno nel tempo è il mutuo quindi tendenzialmente è un elemento che piace alla banca tuttavia bisogna stare attenti perché quei famosi parametri creditizi familiari sociologici sono quelli che comandano questo che cosa vuol dire che il ragionamento per cui io ho un affitto prendo sempre i famosi 1200 euro ho un affitto di 400 euro al mese che pago regolarmente ergo uguale la banca mi darà il mutuo no non è così bisogna rispettare questi profili quindi l'affitto è un ottimo biglietto da visita ottimo anzi io consiglio sempre di presentare il contratto di affitto nella pratica magari far vedere l'equitanza di due o tre bonifici ultimi del pagamento della rata ma ecco sempre con l'attenzione poi di verificare le politiche di credito affinché l'operazione di mutuo possa andare a buon fine ok grazie fabio consigli prima di mettersi a cercare casa quanti ne possiamo dare un bel po in linea di principio io credo che ogni volta che noi dobbiamo andare ad acquistare un qualcosa io ho sempre pensato che devi capire devi sapere esattamente quanto hai in tasca quindi se se sto passeggiando per le vie del centro vedo un vestito in negozio un paio di scarpe leggo il prezzo e mi aspetto che se entro nel negozio so quanto hai in tasca ok e per quale strano motivo non so perché quando si parla di casa ecco non avviene la stessa cosa ovvero le persone si mettono alla ricerca della casa senza sapere se possono ottenere un mutuo che equivale a non sapere se posso ottenerlo meno e quanto posso ottenere quindi che tipo di casa posso andare a visitare ecco quante situazioni viviamo giornalmente su questo aspetto cosa ci puoi dire che capita spesso di essere contattato da clienti che mi dicono fabio abbiamo firmato la proposta finalmente se l'hanno anche accettata partiamo con il mutuo lì come dire è un momento di panico perché il cliente ti chiama all'improvviso tu non hai fatto una valutazione preventiva sul cliente devi farla sul momento e magari salta fuori che la proposta per 120 mila euro è eccessiva quindi bisogna rovesciare questo paradigma prima bisogna capire se abbiamo il terreno solido sotto i nostri piedi e quindi fare una una valutazione importante sulla propria potenzialità di accesso al credito questo ovviamente lo potete fare chiedendo alla vostra banca ma anche soprattutto al consulente di credito che ripeto ha una visione comparata del mercato e quindi può più facilmente indirizzarvi verso quelle politiche di credito più adatte alla vostra tasca o comunque quelle politiche di credito che sono più capaci di darvi accesso a somme adeguate quindi rovesciamo questo paradigma informiamoci prima su quale è la nostra potenzialità di accesso al credito evitiamo delusioni aspettative frustrate in questo modo ovviamente evitiamo di far perdere tempo all'agente immobiliare piuttosto che al venditore che fa affidamento sulla nostra proposta è sempre fondamentale decisivo chiarire prima di fare la proposta quanto possiamo avere dalla banca e quindi chiedere una consulenza specifica dedicata a questo scopo benissimo poi a tale a tale scopo insomma affronteremo nelle dirette successive questi questi temi che saranno dei temi sempre ridondanti ecco devi sapere quanto hai in tasca prima di andare a comprare qualcosa ecco il tema non 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 ci siamo inventati l'acqua calda è una cosa talmente logica e soprattutto se consideriamo che l'acquisto della casa è uno dei passi più importanti della nostra vita e non vedo perché insomma non ci si debba informare in maniera adeguata perché veramente sono situazioni o in quasi 25 anni ne ho vissute veramente tante sicuramente anche tu di persone che hanno fatto veramente dei passi quindi sono impegnati con l'acquisto di una casa e poi non avevano la liquidità per onorare un contratto con tutte le conseguenze del caso intanto fabio prima di andare in chiusura abbiamo una domanda da un'amica da casa cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi per quanto riguarda l'andamento dei tassi di interesse una domanda ovviamente interessantissima e cosa pensi è una domanda che è una domanda che la domanda principe in questo momento ma allora diciamo questo io sto verificando che i tassi stanno mantenendo un livello molto basso ed è probabile che lo manterranno ancora a lungo questa crisi del coronavirus non ha certo come dire comportato un beneficio per l'economia e quindi io credo che il sistema bancario europeo la bce manterrà ancora a lungo bassi i tassi per permettere alle economie nazionali di respirare in un momento così difficile questo vuol dire che si potrà creare nei prossimi mesi una congiuntura molto favorevole tassi molto bassi immobili con prezzi in discesa e quindi grandi opportunità per chi in questo momento sta valutando la possibilità di investire o comprare casa a buone condizioni di poter come dire affacciarsi in questo mercato e vedere un po' come si sta muovendo ecco io credo che potranno esserci davvero delle ottime ottime circostanze nei prossimi mesi sì ti confermo ecco ti porto qualche dato fresco noi in agenzia abbiamo contattato in queste settimane tutti i potenziali acquirenti abbiamo interrogato tutto il nostro database acquirenti e devo dire che insomma contrariamente a quello che si pensava tante persone stanno proprio veramente guardando con attenzione alla possibilità di acquistare casa quindi ci sono veramente tantissime persone continuano ad arrivare richieste giornalmente di persone che vogliono intraprendere questo questo progetto e parlo anche di seconde case quindi non non è solo un aspetto legato alla prima casa quindi seconde case probabilmente sono quei piccoli investitori quindi piccoli risparmiatori che ovviamente in una fase come questa dove anche a livello di titoli titoli borsistici ecco non si sta vivendo una una situazione particolarmente insomma vantaggiosa che hanno ritirato dal i loro risparmi dai mercati finanziari e a quel punto impiegheranno i loro risparmi sul sull'immobile il vecchio caro mattone che di fatto è meno volatile anche come tipo di di prodotto rispetto a un titolo io anche io qualcosina investito ecco vedevo insomma nelle settimane scorse che sono titoli che hanno perso veramente il 20 25 30 per cento possiamo dire che questo tipo di percentuale a livello immobiliare un 30 per cento fabbio l'abbiamo perso in quasi dieci anni ok quindi è veramente oggi per chi ha qualche risparmio si può presentare nei prossimi mesi lo scenario perfetto per poter andare ad investire perché prezzi un po più bassi tassi dei mutui bassi tanta offerta tantissima offerta perché aumenteranno sempre di più anche le possibilità che verranno introdotte sul mercato perché ahimè purtroppo ci saranno anche persone che insomma vivranno questa situazione non riusciranno a a pagare e onorare i loro impegni ok perfetto fabio abbiamo esaurito il tempo ti ringrazio per per essere stato qui con noi ringrazio te per l'opportunità che mi hai dato grazie benissimo ci vedremo sicuramente nelle prossime dirette ecco avremo sicuramente una un appuntamento cadenziato vorrei dire ai nostri amici da casa che abbiamo appunto istituito uno sportello virtuale nella nostra agenzia abbiamo con fabio già fatto nei giorni scorsi degli appuntamenti con clienti dove ci siamo dove stata anche una bella esperienza fabio cosa pensi a mandata perché stiamo sperimentando questa procedura a distanza quindi il rapporto come dire via web che nei prossimi mesi inevitabilmente dovremmo utilizzare sempre di più è una tecnologia estremamente utile in tempi come questi in che modo possono contattarti alla mia al mio indirizzo di posta elettronica fabio punto panicucci chiocciola auxilia finance punto it piuttosto che al mio numero di cellulare 349 59 276 47 ovviamente sono sempre disponibile sono operativo tra l'altro l'attività di consulenza è prevista tra i codici a teco che possono ancora operare presentemente quindi insomma massima operatività massima presenza perfetto fabio magari inseriremo sotto i commenti di questa diretta nella registrazione i tuoi riferimenti in modo tale che almeno se le persone da casa vogliono contattare direttamente te per anche una semplice domanda potranno farlo ok benissimo grazie grazie ciao fabio ringrazio tutti i nostri amici da casa ciao ciao